Ciao Francesco, Stefano, Francesco Freda, è un piacere davvero grande avere questa possibilità di poterti fare questa intervista, comincerei con qualcosa? Grazie, grazie te lo dico anche io però, a me fa sempre piacere avere incontri nuovi eccetera, quindi vi dico grazie per me e per i miei 68 anni di cinema, 68 anni, sono davvero tanti e le volte io mi fermo a riflettere sul passato e mi sembra di far parte di una pièce teatrale, e poi dopo mi rendo conto che il personaggio sono io, anche nel silenzio mio, nel silenzio in cui io vivo spesso qui, perché dopo la morte di mia moglie, 11 anni fa, io sono rimasto da sole, mi sono innamorato sempre più di Pistoia e sono rimasto sempre molto collegato a Pistoia e quindi è diventato come la mia seconda città, pur mantenendo i rapporti di lavoro a Roma eccetera, ti parlo un po' anche della mia vita. Sì, ma tu sei un'altra Pistoia? No, 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 io sono Umbro e per caso perché mio papà era ufficiale quindi, però mi sono avvicinato a Pistoia tramite mia moglie perché Anna Mode, era la famosa Sartoria che conoscerai, mia moglie Anna, e per un caso io andavo a fare un provino in Sartoria da lei con una famosa costumista, la Maria de Matteis, e da lì nacque questa simpatia, inizialmente un'antipatia al principio, poi da lì un grande amore che ci ha portato per quasi 50 anni insieme, insomma, e quindi tutta una vita passata nel suo lavoro, nel mio lavoro, ma sempre di grande simbiosi, insomma, tramite, logico, Anna era Pistoiese, logicamente mia moglie era Pistoiese, quindi oltre ad innamorare di lei mi sono innamorata di Stoia, insomma. E poi gli studi? E poi gli studi li lasciai per entrare in questo mondo del cinema, stavo parlando di qualche anno fa, nel 1947, lasciai l'architettura, facevo l'architettura, avevo dato 5-6 esami del biennio, poi mi innamorai del cinema, mi innamorai del... per un caso, insomma, perché un mio amico mi disse, sai, perché non vieni, ti faccio vedere l'ambiente dove ci siamo, facciamo il cinema, sai, allora il cinema era la vita nostra, insomma, perché il nostro divertimento era solo il cinema, insomma, insomma, quindi il sabato tre film, le discussioni, le cose, e quindi sono fatto di andare, di andare a... in un ambiente di cinema, per me era la follia, insomma, il sogno mio, e poi entrai dentro questo reparto trucco, fu affascinato dalle luci, dagli specchi, dai primi colori, e quindi da lì nacque piano piano, piano piano, piano piano, questa grande massione che poi mi ha portato ad essere... mi ha portato ad essere parte della mia vita, insomma, solo della mia vita. fra l'altro l'anno importante sono gli anni del neorealismo, gli anni di Rossellini. Ecco, difatti, difatti, questa precisazione mi porta anche a quello che è stato poi il mio lavoro, perché... perché... quando io mi sono reso conto che avevo a che fare con dei volti, per esempio, che erano allora, li consideravo quasi come stampati, diciamo, no? Senza vita, quasi, di questa massa di fondotinta, allora si chiamava Cerone, perché era pesante, eccetera, e quindi erano un po' tutti uguali, insomma, e sentì il bisogno, essendo proprio figlio del neorealismo, sentì il bisogno di dare oltre quella naturalezza, quella realtà che, pur truccandole per un'ora, un'ora e mezza, eccetera, ma che il risultato potesse essere vero, insomma, potesse essere più che vero, reale, insomma, ecco. Questo è stato sempre lo scopo mio, della mia vita, che poi mi sono portato sempre per arrivare al massimo della giornata particolare, che poi sarà veramente la conclusione finale di quello che sono state sempre le mie idee, insomma. Se no, allora mi dissero, ecco, questo è il Cerone degli uomini, questo è il Cerone delle donne, per me rimase una cosa quasi di follia, perché io dico, ma come, io posso dare uno stesso Cerone, posso darlo a tanti visi che sono uno diverso dall'altro, quindi ad ognuno io devo dare il colore giusto. E quindi mettere in atto quello che stava per me sempre un punto base del grande pittore svizzero Paul Klee, che diceva il colore è il punto d'incontro nel nostro cervello con l'universo, una frase bellissima, insomma, credo che me la sono tenuta sempre nella mente per poter effettuare qualsiasi lavoro, anche modesto, perché il cinema a cui ho avuto l'onore di partecipare non è stato sempre solo e esclusivamente dei vari Antonioni, De Sica, Scola, Rossi, cioè, è stato anche di film, non so, di Bancini, di Pietrangi, eccetera, cioè, registi che apparentemente potevano sembrare di secondo, di serie B, diciamo, ma in realtà era del cinema, era del cinema vero, del cinema straordinario, impegnativo, eccetera, e quindi è stato per me poter lavorare in un ambiente in cui ho potuto dare la mia pur modesta parola, insomma, ecco, anche perché ho avuto sempre la fortuna di lavorare con dei registi che hanno dato importanza al mio lavoro, che hanno fatto sentire, scusa, che hanno fatto sentire la, insomma, la collaborazione che c'è stata fra me, l'operatore e la stessa regia. Di quegli anni in bianco e nero poi ci sono capolavori come il Ferroviere. Ecco, appunto, per esempio, il Ferroviere, ecco, con Germi, per esempio, ecco, nascevano poi, nascero dei rapporti di qualità straordinari perché, e difatti, tutti i miei incontri con dei registi sono durati diversi, parecchi film, certo, un po' dopo, ma non neanche li potevo fare tutti perché magari potevo essere occupato, eccetera, ma con Germi, che sono l'uomo di Paglia, il Ferroviere, il figlio di Mastroianni, con la Sandelli lì, di Forza l'Italiano, insomma, tutti i film che hanno cementato ancora più il rapporto con Germi e quindi c'era proprio, non è quasi una simbiosi, ma posso dire, insomma, bastava un occhio, bastava una parola per capirli, e quindi era un piacere, insomma, poter lavorare con loro, ecco, io ho avuto sempre il desiderio, insomma, l'amore che è stato per me uno dei punti base della mia vita, ma l'amore, io intendo l'amore, l'amore non parlo di sesso, eccetera, ma parlo di l'amore che per me è tutto, da viaggiare, amicizia, lavoro, sognare, leggere, vedere, questo è l'amore, con cui io, insomma, sento il piacere di andare nel lavoro, l'amore, la passione, la passione, la passione, infatti passione, dedizione, tutto, insomma, vivere nel, per il lavoro senza amore, io non so proprio come si faccia, perché io consideravo appunto l'amore sempre come punto centrale, come punto base, qualsiasi manifestazione, qualsiasi rapporto, quindi dall'amicizia, dal lavoro, dall'incontro, insomma, tutto a base dell'amore. Una scena si può rigirare, se non va bene, se l'attore si scorda le battute, o comunque sia, non interpreta il personaggio come vuole regista, ti è mai capitato nel trucco, un trucco che comunque, diciamo... Per fare dei trucchi particolari si fanno sempre dei provini, logicamente, quando c'era la preparazione, lo studio di un film, si facevano dei provini e si stabiliva inizialmente già quello che sarebbe stata la conduzione di tutto il film. In più, poi dopo ci sono delle cose particolari, ti posso dire una silvacoscina che, un film di Bava, che voleva, che voleva, Bava che voleva che lei cadesse su dei pezzi di vetro e un pezzo di vetro gli entrasse nell'occhio eccetera, quindi, soprattutto, degli effetti speciali, beh, certo, questi devono essere soggetti a una preparazione, a uno studio, a dei provini, quindi è difficile che poi, dopo, quando vai a girare, non va bene, perché, insomma, hai fatto due, tre, quattro provini, e quindi, quando vai a girare, questo è la qualità dei film che si sono sempre fatti nell'arco della mia vita professionale, quando ciò che il cinema italiano è stato veramente un monumento nel campo dell'arte, diciamo, per me, un monumento, e devo dire che io, come tanti altri, abbiamo portato delle pietre molto pesanti alla realizzazione di questo monumento, ma era una soddisfazione grande, allora si andava in proiezione, dopo due giorni andava a vedere il materiale, e per noi era una festa, si lavorava dalla mattina alle sei, alle cinque, alle sei, sempre dodici ore, quattordici ore, come minimo, il sabato si lavorava sempre, quindi erano, erano, insomma, situazioni che solo adesso, io ultimamente quando ho fatto i film di scuola ho chiamato, ho chiamato delle persone che mi hanno chiesto subito quando finisco e quanto mi danno, ma capisci, una mentalità proprio di un altro mondo per me, perché io mi ricordo che, appunto, all'inizio, quando io ho accennato all'inizio, che cominciai ad entrare, e poi dopo entrai decisamente quale volontario, diciamo, quale presenza mia, ma non pensai mai di chiedere un soldo, e difatti dopo, credo, quattro settimane, io ero presente, guardavo, studiavo, leggevo, insomma, apprendevo, cercavo di capire, di captare tutto, insomma, quando mi dissero, prego, ci vuole l'amministratore, ti devi dire, io rimasi, oddio mio, che cosa avevo fatto di male, insomma, ero terrorizzato da questo incontro, insomma, e questo mi dette un premio di 2.500 lire, che era una somma enorme, tanto che, rientrando a casa, misi questi soldi sull'ottavo dello studio, e il mio padre, che era da buono un fusciale, insomma, la mentalità, e cioè, vede questi soldi, diceva, di chi sono questi soldi? E vabbè, sono il premio che mi hanno dato, insomma, era una tombola, allora si pranzava in trattoria, allora non c'erano tutti i ristoranti, cioè, pranzava in trattoria con, insomma, 400 lire, quindi, insomma... Per cui era, tanti soldi, insomma. Era, tanti soldi. Grazie. Grazie.